Questa è una convenzione che ripercorre quello che è già avvenuto in passato ed è il segnale di attenzione che la CEI e la Caritas hanno mostrato nei confronti dei migranti che arrivano sulle nostre coste scappando da territori dove la Libia, dove attualmente c'è una guerra civile. Quindi l'attenzione dimostrata fa sì che il Ministero dell'Interno dia gratitudine all'Eminenza Bassetti per quello che sta facendo per noi. Ed è anche un po' una risposta alle preoccupazioni, alle paure degli italiani riguardo ai continui sbarchi? Guardi, gli sbarchi attualmente come numero, diciamo che parliamo di barchini che ovviamente un pochetto sono implementati però ci sono sempre stati anche nei periodi precedenti. Quindi è un sistema che adesso noi vedremo di governare al meglio, sperando anche con l'aiuto dell'Europa perché molto secondo me noi dobbiamo fare insieme agli altri paesi europei per cercare di governare un fenomeno che comunque è un fenomeno strutturale che esiste e che va governato.